ZTL sì, ZTL no, torna protagonista delle cronache palermitane la zona traffico limitato nel centro di Palermo, questa volta però a tener banco è la reintroduzione della misura fortemente voluta dall'amministrazione comunale. La giunta è al lavoro perché le limitazioni ad emergenza sanitaria quasi superata rientrino in vigore. Il dibattito è superato, dice l'assessore alla mobilità, giusto Catani. Abbiamo il dovere nei confronti dei palermitani e della loro salute di non tornare indietro su questa strada. Abbiamo dati che dimostrano che la ZTL è necessaria, abbiamo l'obbligo di ripristinarla. Sarebbe criminale non farlo, ma siamo disponibili ad ascoltare le proposte dei commercianti. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle ha invece chiesto di sospendere la zona traffico limitato fino a quando la crisi epidemiologica non sarà finita e comunque almeno fino al 31 agosto occorre agevolare gli spostamenti in città dicono i consiglieri pentastellati. Toni duri dall'opposizione. Affermare che la decisione di ripristinare la ZTL sia strettamente connessa con il desiderio di contenimento del virus appare quanto meno grottesco, dice Sabrina Figuccia, consigliere comunale dell'Udc. Non capisco chi voglia prendere in giro l'assessore Catania, forse solo se stesso, perché i palermitani ormai hanno capito bene con chi hanno a che fare. E diversi commercianti del centro storico sono sul piede di guerra. Forse il comune non ha compreso i danni incalcolabili che stiamo pagando per l'emergenza sanitaria, dice Mauro Leone, proprietario di un negozio di abbigliamento in via Roma. Forse non moriremo per il virus, ma certo di questo passo moriremo di fame.